Ben trovati. Nelle ultime settimane è capitato più spesso, l'avrete notato, sia nell'aula della Camera che in quella del Senato, che il dibattito assumesse toni molto accesi, con contestazioni rumorose e manifestazioni plateali. Credo che l'avvicinarsi della scadenza elettorale non sia un elemento estraneo a tutto questo, che induca qualche forza politica a usare il Parlamento come ribalta mediatica. Voglio sperare invece che nel mese o poco più che ci separa dal voto tutti i gruppi sappiano rispettare l'aula parlamentare, il che non significa naturalmente mettere a tacere i dissensi, a volte anche aspri, ma vuol dire essere consapevoli del fatto che lo spettacolo ripetuto di urla, invettive, grida, incidenti fa male alla credibilità dell'istituzione. Accredita l'idea che il Parlamento sia un palcoscenico, sia un luogo dove si fa spettacolo, più che un luogo dove si prendono invece delle decisioni utili e importanti per la comunità. Utili come quella appunto in materia di scambio elettorale politico-mafioso. È finalmente legge, dopo il voto del Senato, la norma che si attendeva da anni, la norma per colpire le collusioni tra politici e criminalità organizzata, individuando come reato non solo il passaggio del denaro, ma anche, ad esempio, la concessione di appalti. Sono queste le altre utilità che la legge permette ora di sanzionare. La norma arriva in tempo per le prossime elezioni europee e amministrative. Significativo l'apprezzamento che al nuovo testo hanno riservato tanto il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti quanto il presidente dell'autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone. Ringrazio ancora una volta la campagna Riparte il futuro, quella dei braccialetti bianchi, che in tanti parlamentari abbiamo messo al polso come segno di un impegno che ora è diventato legge. Due i temi principali discussi in aula in settimana. Il primo è il cosiddetto DEF, il documento di economia e finanza, che viene definito il raccordo con le regole europee. È stato approvato, dopo l'autorizzazione delle Camere al Governo, a rinviare di un anno, dal 2015 al 2016 il pareggio di bilancio. Il secondo tema è stato l'immigrazione, questo sulla base di un'informativa fornita all'Aula dal ministro dell'Interno Alfano. Il ministro ha evidenziato tra l'altro che negli ultimi anni coloro che arrivano per mare sono persone in fuga da guerre e persecuzioni, così come ha sottolineato la scarsa efficacia che ha avuto il cosiddetto reato di clandestinità nel ridurre gli arrivi. Il ministro ha anche proposto di istituire presidi dell'Unione Europea nei paesi di transito per ricevere e vagliare già in quelle nazioni le domande di asilo. Potrebbe essere un modo per ridurre tanti lutti, tante morti e anche per coinvolgere gli altri Stati europei nella gestione di un fenomeno che non può essere lasciato solo all'iniziativa dei paesi mediterranei. Bene, vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro buona Pasqua e ci rivediamo fra una settimana.